Sergio e Tania è una delle coppie più amate in assoluto dai fan della squadra e fin da subito abbiamo visto un Sergio veramente molto preso da questa bellissima ragazza, da Tania, che all'epoca quando si sono conosciuti, insomma lei era una prostituta, quindi pensiamo al tema delicato che era stato affrontato, cioè che un poliziotto frequenta una prostituta e poi a un certo punto l'ospita pure a casa sua, quindi insomma veramente un caso molto molto delicato affrontato dalla nostra serie tv preferita. Un Sergio che lui si era capito che insomma era già innamorato di Tania e per questo motivo ha cercato in tutti i modi di togliere dalla strada Tania, nonostante questo voleva dire correre anche dei rischi per la sua carriera, perché questo veramente avrebbe creato moltissimi problemi a Sergio essendo un poliziotto. Problemi che sono arrivati perché Caffasso ha saputo che Sergio aveva ospitato Tania, questa prostituta, Caffasso aveva detto che doveva fare una scelta o il lavoro o Tania, però alla fine anche Caffasso si è dovuto arrendere a Sergio perché Sergio non voleva assolutamente rinunciare a questa donna ma al tempo stesso non voleva nemmeno rinunciare sul lavoro, quindi si era capito che veramente Sergio ci teneva a questa donna e tanto che ha rischiato anche lui perché ricordo che era stato aggredito, aveva subito insomma un pestaggio molto insomma un brutto pestaggio proprio per cercare di aiutare Tania. Fatto sta che alla fine Sergio riesce a togliere dalla strada Tania e a renderla una ragazza libera e così insomma abbiamo visto che nel corso del tempo la loro storia è cominciata a diventare sempre più importante. Una Tania che anche lei si è legata moltissimo a Sergio, anche lei si è innamorata di lui e veramente sembravano inseparabili. Poi arriva il matrimonio, un bellissimo matrimonio tra Sergio e Tania con una bellissima festa e sembra che tutto vada per il meglio fino a quando nel corso della terza serie qui c'è la svolta perché Tania che sta cercando di farsi farsi strada nel mondo della moda un giorno torna a casa da Milano però non torna sola, torna in compagnia di un'altra ragazza che aveva conosciuto proprio a Milano, di una bellissima ragazza e così abbiamo conosciuto Valentina e questa ragazza avevamo visto che era molto particolare tant'è che era un po' ambigono, si riusciva a capire esattamente che cosa volesse, quale fosse il suo obiettivo. Fatto sta che Valentina rimane a dormire a casa di Sergio e Tania per diversi giorni, però poi a un certo punto Tania viene richiamata da Milano, inizialmente sembrava che non fosse stata presa dal provino che aveva fatto, sembrava che il provino non fosse andato bene e invece è stata richiamata. Quindi Tania è ripartita immediatamente per Milano lasciando a casa solo Sergio con Valentina e qui insomma Tania si è fidata di suo marito e purtroppo però Valentina è riuscita a far cedere Sergio, Valentina ci ha provato con lui e alla fine Sergio ha ceduto e quindi c'è stato il tradimento di Sergio a Tania e possiamo dire che questo da Sergio non ce lo saremo mai e poi mai aspettato perché noi abbiamo sempre visto Sergio innamoratissimo di questa donna, una donna bellissima quindi neanche da dire che motivo avresti di tradirla, noi molti hanno detto e invece anche lui è cascato in tentazione e quindi c'è stato questo tradimento. Fatto sta che da quel momento insomma Valentina non ha dato tregua a Sergio. A un certo punto sembrava che Valentina fosse uscita di scena, era andata via lasciando un biglietto a Sergio e a Tania dicendo che era partita per Milano e invece no, non si era spostata da Napoli e dopo poco torna presente nella vita di Sergio. Si presenti commissariato diverse volte, sembra veramente che non voglia perdere assolutamente Sergio, ma Sergio gli dice io amo Tania, voglio stare con lei devi lasciarmi in pace e se vuoi dire la Tania, diglielo, basta che poi esci della mia vita e alla fine insomma Valentina si è vindicata di Sergio, non dicendo però a Tania del tradimento ma abbiamo visto che Valentina ha cercato di suicidarsi nel bagno proprio di casa di Sergio e Tania tagliandosi le vene e questo è stato un gesto estremo che ha fatto Tania ovviamente preoccupatissima anche Sergio ovvio e fatto sta che poi quando hanno capito che era fuori pericolo lì Sergio ha avuto un crollo. Abbiamo visto piangere e praticamente ha fatto capire a Tania di averla tradita con Valentina e questo Tania non era uscita a reggere l'urto tant'è che ha deciso a un certo punto di andarsene via di casa. Quindi Tania ha lasciato Sergio e qui abbiamo visto un Sergio che è cominciato a bere, a trascurarsi e non riusciva più a stare in quella casa, infatti è andata addirittura a dormire da Alfio in camerata e un Sergio molto nervoso anche sul posto di lavoro e qui abbiamo visto che Pietro spesso ha cercato insomma di aiutarlo, di ascoltarlo, ne ha dato insomma supporto, di lui sono molto molto amici e fatto sta che poi dopo nella quarta serie a un certo punto abbiamo visto il ritorno di Tania Tania era entrata a Napoli e ha cominciato a lasciare delle tracce in casa, delle tracce per Sergio per fargli capire che lei era passata di lì, per fargli capire che lei era a Napoli e quindi hanno cominciato questi messaggi tra di loro con a volte dei messaggi scritti su dei post-it a volte magari invece con dei lavori che Tania faceva fare a Sergio come ad esempio quello di dipingere un armadio oppure di aggiustare il rubinetto, quindi tante piccole cose che facevano capire a Sergio che prima che lei era disposta a tornare ma prima doveva fare queste cose e a un certo punto poi Sergio trova un messaggio da parte di Tania dicendo insomma è il nostro anniversario prepari tu e qui Sergio è tutto contento e felice e certo che preparo io, l'abbiamo visto preparare la cena, tutta insomma una bella tavola, l'uomo di candela, fatto sta che Tania non si presenta e qui abbiamo visto un Sergio tutto veramente depresso, tornare in camerata e con altri ha detto no come non è venuta Tania, ha detto no mi ha fatto preparare tutto e poi non si è presentata un Sergio che non riesce a capire veramente il comportamento di Tania ma grazie a Ramaglia che ha detto ma non è che sveglia il tuo giorno dell'anniversario perché anche a me è capitato e Sergio ci ha ripensato e ha detto cavolo tu sei un genio e allora questo vuol dire che se l'anniversario oggi e non era ieri può darsi che Tania sia già a casa a quest'ora e quindi abbiamo visto un Sergio correre immediatamente a casa e qui ha ritrovato Tania e finalmente i due sono tornati insieme e una delle coppie storiche insomma della squadra si è così riformata io però voglio chiedere il tuo parere, che cosa ne pensi insomma della storia che c'è stata tra appunto tra Sergio e Tania e anche insomma di come è stato gestito a tutta la questione del tradimento poi il ritorno di Tania a Napoli scrivi tutte le tue opinioni nei commenti, ti raccomando ti invito anche ad iscriverti al canale YouTube di Ovest la vera squadra perché solo così rimarrai aggiornatissimo sui prossimi video in uscita sulla squadra, un posto al sole ma anche su tanti altri argomenti e inoltre puoi anche abbonarti al canale e una volta abbonato potrai vedere tanti video riservati solo e esclusivamente agli abbonati e tra i video che troverai ce ne sono tanti proprio riguardanti la squadra e in questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto, ciao!